Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su questo nuovo video, io sono SlimeMV3 e oggi giocheremo a Slime Rancher Vi farò vedere la mia partita e quello che farò e poi continueremo il gioco insieme Aspettiamo che carichi, comunque ragazzi mi dispiace per questi giorni che non ho portato video sul canale Perché il computer si rompevola, lo devo portare ad aggiustare eccetera eccetera Comunque il gioco si è aperto Possiamo iniziare Vediamo Io cosa devo fare giusto? Ecco, quanti soldi ho? Pochissimi Con questi qua cosa ci faccio? Cosa ci faccio? Come se questi qui hanno qualcosa da darmi? No niente Ok no, tutti questi slime dietro non me li posso portare, se no poi non posso prendere Niente Ok Mi dispiace Non so dove mettere Però se quelli lì si accoppiano Macello Però quando tu, vabbè, io non scappo Quelli là che vedete, quelli rossi, quelli slime rossi Appena te vicini scoppiano, quindi non è la cosa migliore Vediamo Vediamo, muu, quante Quanti blorte Prendiamo le carote per il nostro slime A voi no niente Voi siete cattivi No, datemi, datemi queste cose Datemi la frutta Datemi la frutta Slime non li voglio Morite No 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 Povera carota Dubbia Dubbia Blot tutti con me No 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 Tanto li porto da mangiare, avendo tutti questi blort E poi ci avventuriamo Ecco bravo Sono esplosi, stanno esplodendo Se mi avvicino, mi esplodono Aspetta Alla la massima Vediamo quanti soldi ma poi ci mi avevo guadagnato andiamo da mangiare ai nostri slime si quelli che ti vuol prendo le garote a volo ok tu vuoi mettersi con loro è la mingatto quello lì si vuole accoppiare con quella macchina ma va bene andiamo un po' più lontano ragazzi vi porto in un posto che ci staremo un bel po' di tempo ok ci carichiamo d'acqua prendiamo l'acqua andiamo tutto ci vuole ok basta possiamo andare ok basta possiamo andare i blurti li prendo la prossima volta però qui spavano tutti mi sono bloccato ero bloccato in quel punto in pericolo di morte ma morite tutti ora non spavano più nessuno prima lo spavano tipo slime cattivi mi uccidevano mi uccidevano mi toglievano quasi tutta la vita attento a non cadere attenti attento qui già l'altra volta ho perso la chiave uccidendo uno slime ragazzi quando io stavo entrando qua la prima volta che ero qua guardate qui si dovrebbe scendere io invece sono andato dritto non so dove sono andato però si si collegava acqua ma io ho fatto tutta una sera diversa ok ho visto una cosa che non mi dovevo fare vedere slime d'acqua non so di che mi è andata oh ma sto niente no non servono per dire dov'è dove sei fino a fatto quello ok io non ho fatto niente lo stanno costruendo mori morite oh l'ho ucciso tutti vi prego non ho mangiato qualche altra cosa se no io me ne vado ciao io non ho fatto niente quanto lagga io non sono mai venuto cos'è quello no ci devo andare ci devo andare non dico io ci devo andare no che cos'era cos'era quello no me lo dovete dire me lo dovete dire cos'è allora qui c'era la salita e cos'era quello dove va sto dicendo tutto intanto io dovrei continuare il cammino albero mi fa bene due o tre ok dritto andiamo dritti perché lagga perché lagga bravi esplodete grazie per il danno grazie grazie trasformatevi 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 si qui ci sono quelli che mmm ok vabbè frida a posto ci vediamo un po' d'acqua ci vediamo un po' d'acqua ok 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 arriva l'acqua vado lontano va bene ok 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 questo è la fine qui c'è un'altra porta va bene torniamo a casa oh eccovi qua esplode quanto vado quanto vado quanto vado quanto vado non lo saremmo d'acqua non posso lasciarlo vado 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 ok ok ragazzi io penso che per questo video possiamo concludere e ci vediamo al prossimo video bello